In estate si sa che il caldo può essere un vero e grosso problema, specialmente se non avete il condizionatore a casa. Ma devi sapere, che se non hai il condizionatore, puoi comunque andare ad attuare tantissimi altri trucchi per poter rendere fresca la tua casa. Sicuramente tra i vari consigli e trucchi c'è quello di evitare di esporre la casa ai raggi UV del sole, quindi nelle ore più calde dovreste abbassare le tapparelle. Il secondo consiglio si collega al primo, sui balconi o dove potete, l'utilizzo di tende e ombrelloni può riparare dei raggi del sole ed evitare di scaldare le camere di casa. Il terzo consiglio, sui balconi potete andare ad utilizzare delle piante rampicanti, che proteggeranno anche loro dal sole e dal caldo. Il quarto consiglio è quello di evitare di fare docce e creare umidità in casa, in quanto possono andare ad aumentare l'umidità di casa, quindi cercate di farvi la doccia nei momenti più freschi, come la mattina presto o sera tardi. Il quinto consiglio è quello di andare a spegnere gli elettrodomestici che non usate, in quanto anche essi vanno a consumare energie e quindi a scaldare la casa. Il sesto consiglio si collega al quinto, cercate di evitare tutti quei elettrodomestici che tendono a scaldare la casa, come ad esempio il fono o il forno. Il settimo consiglio, cercate di mangiare cibi freschi e idratanti, sia alla frutta in quanto è piena di acqua e fibre. Evitate anche di cucinare cibi troppo caldi al forno, preferite piatti leggeri e freschi. L'ottavo consiglio è quello di andare ad isolare, dove possibile, il sottotetto e tutte quelle superfici esposte ai raggi del sole. Il nono consiglio per le tende da interno cercate di preferire il bianco che tende a riflettere i raggi solari. Il decimo e ultimo consiglio potete valutare di utilizzare un ventilatore a torre o portatile, tenete anche conto che il ventilatore consuma in media fino a 15 volte in meno del condizionatore. Per oggi questo è tutto. Spero che i nostri video ti piacciano, non dimenticare di iscriverti e condividerli con i tuoi amici. Premi il pulsante iscriviti e attiva la campanella.